Come si è voluto nel corso degli anni il trattamento delle spondilartriti sia quelle assiali sia quelle periferiche e soprattutto quali sono le novità in terapia? Ne abbiamo parlato col professor Salvatore D'Angelo che abbiamo incontrato qui a Milano al congresso dell'EULAR. Professor D'Angelo, a che punto siamo con la cura delle spondilartriti sia quelle assiali sia quelle periferiche come ad esempio l'artrite psoriasica? Quali sono le terapie appunto che oggi avete a disposizione? Abbiamo veramente un armamentario terapeutico importante, si è partiti dagli anti-TNF 20 anni fa che hanno cambiato la storia naturale di queste malattie, successivamente si è visto come l'asse interlochina 17 e interlochina 23 risultava essere molto importante in queste malattie, infatti sono stati prodotti dei farmaci specifici diretti contro l'interlochina 17 e contro l'interlochina 23 che risultano essere efficaci in moltissimi pazienti. Quindi il panorama attuale terapeutico è questo. Senti, invece la ricerca dove sta andando, soprattutto quali sono i farmaci che possiamo aspettarci nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sulla base anche di quello che dicono le agenzie regolatorie? La ricerca va sempre avanti, fortunatamente ci sono sempre più opportunità per i nostri pazienti. I dati più recenti riguardano l'inibizione dell'interlochina 17A e interlochina 17F. Attualmente noi abbiamo dei farmaci che inibiscono specificamente l'interlochina 17A, vi riferisco al secukinumab e all'ixekizumab. Una serie di dati sperimentali di ricerca di base hanno però confermato come un altro isotipo dell'interlochina 17, l'interlochina 17F, che è molto simile alla 17A, ha un ruolo importante nella patogenesi di questa malattia. Partendo proprio da questo presupposto teorico, è stato quindi sviluppato un nuovo farmaco, il bimekizumab, che va a bloccare tutti i due citotini, quindi la 17A e la 17F. E quindi offre la possibilità di trattare in maniera ancora più ampia, potremmo dire profonda, queste condizioni, quindi sia le spondili artriti assiali che l'artrite psoriasica. Quando dovrebbe arrivare questo farmaco? Allora, in realtà è già disponibile per la psoriasi. Nelle spondili artriti, quindi le spondili artriti assiali, l'artrite psoriasica, siamo in attesa dell'approvazione EMA, poi chiaramente ci sono i processi regolatori nazionali, quindi AIFA, quindi aspettiamo che nei prossimi mesi possa essere completato questo ITER. Quindi noi reumatologi potremmo avere a disposizione un'arma che può essere veramente efficace in molti pazienti, che nonostante le grosse possibilità terapeutiche che abbiamo oggi, esistono ancora gli ammetnizi, esistono dei pazienti che non rispondono alle terapie attuali. Quindi può essere veramente una speranza per molti dei nostri pazienti.